Vi presento la nostra nuova macchina con ottica intercambiabile, si chiama GF5, una macchina estremamente compatta, però che mantiene inalterate le caratteristiche di una macchina più professionale, quindi tutte le possibilità di regolazioni manuali, tutto quello che voglio fare lo posso fare con un pratico menu touch che mi permette di accedere a tutte le funzioni e ovviamente scegliere le varie possibilità anche di scatto, in questo caso posso scegliere se registrare e lavorare in Intelligent Auto oppure nelle varie modalità manuali o creatività che posso aggiungere alla foto che sto scattando. Le funzionalità sono ovviamente quelle caratteristiche di questo tipo di macchine con molta possibilità di introdurre il proprio gusto nelle foto, quindi regolando il colore, la possibilità del defocus, regolando l'esposizione anche in maniera accurata. Anche l'uso è estremamente comodo ed ergonomico, l'Intelligent Auto è una funzione che permette anche all'utente più sprovveduto, quello che non è esperto di fotografia, di scattare belle foto in qualsiasi condizione perché permette alla macchina di scegliere il modo migliore di scattare, quindi la macchina riconosce le condizioni di scatto e introduce la modalità scena più appropriata al momento dello scatto che si vuole fare, quindi riconosce se sto facendo un ritratto, una macro, un panorama e mi dà anche le possibilità creative di ritocco della foto, di sfocamento e altro. Il flash ovviamente è incorporato, un'uscita a scatto che ha anche la particolarità e potenzialità di poter essere usato in riflessione, quindi se non voglio far arrivare il flash diretto al soggetto che sto fotografando posso farlo così che la foto venga riflessa dal soffitto non arrivi in maniera diretta. Interessante è anche l'ottica, un'ottica 14-42, quindi 28-84 mm, però è estremamente compatta, soprattutto quando è chiusa, ingombra poco e l'utente non ha le grosse dimensioni di un'ottica da 84 mm. Mentre una volta accesa l'uso è motorizzato, quindi ho una leva di regolazione dello zoom che mi permette di zoomare e una leva di regolazione del fuoco quando lavoro con il fuoco manuale, quindi ottica completamente motorizzata ma di grandi prestazioni. Ovviamente l'ottica è stabilizzata e visto che la macchina registra filmati in full HD è già pronta per permettere la qualità HD dei filmati.